Ciao, mi chiamo Annalisa Salis e sono un'attrice voice talent. Ho 44 anni e sono nata e cresciuta a Roma. Oltre alla recitazione amo tantissimo cantare, infatti faccio parte di due cori qui a Roma perché il canto polefonico per me ha un fascino straordinario. Il ballo, beh, per il ballo non ho ricevuto una formazione particolare, ma quando avevo 20 anni ho passato 4 mesi a Cuba, motivo per cui le danze latinoamericane le ho imparate molto bene. Queste sono le mie mani e questi sono i miei profili. Grazie per l'attenzione!